In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Pochi giorni fa Gesù ci chiedeva di essere perfetti, oggi ci chiede di essere misericordiosi. Sì, perché lo abbiamo già accennato, nessuno è perfetto e la nostra imperfezione necessita assolutamente del perdono. Ma la nostra imperfezione, diciamolo, non ci priva della stima di Dio, noi rimaniamo comunque Suoi figli. Questo dobbiamo imparare a fare, riconoscerci come fratelli e perdonarci vicendevolmente. Don Oreste Benzi, sacerdote riminese morto alcuni anni fa e in procinto di santità, soleva spesso dire che l'uomo non è il suo errore. Il non giudicare del Vangelo di oggi non significa spegnere l'intelligenza del razziocinio ed evitare di condannare il male. Questo errore sarebbe peggiore del primo, si chiamerebbe indifferenza. L'indifferenza è colui che pensa che, poiché milioni di altri fanno la loro parte, è inutile che egli faccia la sua, tanto nulla cambierà. Né in peggio, né in meglio. L'indifferenza annulla la responsabilità e la volontà, salvo poi accusare di tutto il destino. No, il cristiano di cui parla il Vangelo è responsabile dei propri atti e di quelli degli altri, ma si deve fermare a giudicare questi. Non può identificare il peccato con il peccatore, l'uomo con il suo errore, o meglio, deve dare sempre possibilità al peccatore di riscattarsi dal peccato. Questo significa non giudicare. A volte c'è il rischio che i cristiani, con la loro psicologia di dottori della legge, spengano ciò che lo Spirito Santo accende nel cuore di un peccatore, di qualcuno che sta sulla soglia, di qualcuno che comincia ad avvertire la nostalgia di Dio. Che cosa dunque è veramente grave nella vita di un cristiano? È grave giudicare gli altri con intransigenza e livore. È grave ipocrita condannare con forza e severità gli altri perché commettono atti che sovente proprio chi condanna compie a sua volta. È ancora più grave se dei comportamenti peccaminosi diventano mezzi di ricatto, di potere, di complicità, fino a condurre battaglie comuni contro altri sentiti come nemici. Chi non giudica non sarà giudicato. Chi usa misericordia otterrà misericordia. E in questa comprensione del Vangelo che Papa Francesco disse all'Episcopato brasiliano serve una Chiesa capace di riscoprire le viscere materne della misericordia. Senza la misericordia non è possibile inserirsi in un mondo di feriti che hanno bisogno di comprensione, di perdono e di amore. Oggi le domande vertono sul perdono, sulla misericordia o sul giudizio. Quanto sono capace non solo di perdonare gli altri ma anche me stesso. Continuo a fidarmi della misericordia di Dio. Come cambia nel tempo la mia percezione riguardo a quel fratello che ho giudicato o peggio verso cui c'è ormai totale indifferenza. Riesco a convertirmi. Un film che aiuterà a riflettere su quanto è grande la potenza di Dio e quanto è grande la sua misericordia è il film L'Isola. E' il racconto di un monaco, Anatoly, la cui storia è una vera grazia di Dio. Monaco alternativo che appartiene certamente alla schiera dei folli in Cristo della Russia. Da guardare anche questo come film di meditazione. E anche questo film lo trovate gratuitamente su YouTube. Ecco infine mi scuso per l'errore di ieri. Ho detto cistercensi ma intendevo certosini ovviamente. Monaci, quei monaci che appartengono all'ordine fondato da San Bruno. Lì vicino a Grenoble nella Grande Certosa sono state girate le riprese del film che vi ho consigliato ieri. Ed è lì che nel 1084 San Bruno ha cominciato l'ordine di clausura dei certosini. Ecco scusate ancora l'errore.